Ciao cari bambini, il mio nome è Cleopatra, sono l'ultima delle regine d'Egitto, sono la regina delle regine. Pensate, sono vissuta 2000 anni fa e sono famosa per la mia bellezza, astuzia e intelligenza. E pensate, parlo ben 7 lingue, compreso il milanese! E sono cresciuta dalle sangre d'Egitto, per un certo periodo ho regnato con mio fratello minore, ma, ahimè, non andavamo troppo d'accordo e allora sapete cosa ho fatto? Ho chiesto appoggio, niente che di meno, dell'impero romano e tra i miei più famosi spasimanti ci sono Marco Antonio e Giulio Cesare. Bambini, ho un po' di gossi, spette Gules, non guasta mai! Uo, chi arriva? Uo, chi è Cleopatra? Bella, bella, creo, sarò io il tuo Marco Antonio. Avete sentito, mi chiama anche Cleo. Sì! Ma se non sbaglio, non c'è mica anche Gio Condina? Mi sa di sì! No, 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 è Cleo, creo, Gio Condina! Ehi, come hai detto? Cosa hai detto? Sarei tu il Marco Antonio? Giulio Cesare! Ah, Giulio Ceno, Marco Antonio! Adesso ti faccio io! Uff, 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 ma cos'è sta storia? L'imperatura? Allora, bambini, sa, zitta un attimo! Sapete cosa ho portato dal rinascimento della macchina del tempo? Cosa? Cosa? Aspetta un po', aspettate! U, 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 una pentola! No, anche qui! A pentola, te li prendo! No! Sì! No! Sì! No, 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 Cleo, aiuto! Bambini, facciamo una bella cosa! La prossima volta continuo la mia storia! E' meglio per la pace in famiglia! Ehi! Ehi! No! Basta, basta! Basta, basta! Uff, 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 uff! Ai, ma buono! Aiuto! 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 Aiuto, aiuto! Aiuto, bambini! Aiuto! No, 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 no! Ah, ah, ah! No! Puff, puff, puff!